Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati dal vostro Gio Rubbo veramente pochissimi minuti del vostro tempo per annunciarvi che ufficialmente è stata aperta la gilda numero 2 Quindi per tutti coloro che sono rimasti fuori e che non sono potuti entrare nella prima gilda Potete tranquillamente entrare nella seconda, potete fare richiesta L'unica cosa che ovviamente chiedo, perché ovviamente è una questione anche di organizzazione E di entrare su Discord, perché su Discord avremo i canali dedicati alla gilda Avremo i canali dedicati a tutti coloro che sono interessati a far parte di questo secondo gruppo Che poi in futuro, se potrà, si unirà direttamente al primo Quindi se volete potete già iniziare ad entrare, la gilda è stata appena fatta, è stata appena creata Venite su Discord, ovviamente presentatevi perché le richieste saranno approvate soltanto manualmente Quindi se non sappiamo chi siete su Discord, non vi accettiamo all'interno della gilda Quindi mi raccomando ragazzi, siate onesti con noi tutti in generale Siate attivi, siate partecipi, detto ciò non raccomando altro Divertitevi, ovviamente sarete in stretto contatto con me e con tutti quanti gli altri ragazzi dell'altra gilda Proprio per riuscire a creare un qualcosa di solido Niente, detto ciò vi aspetto, venite pure, siate liberi perché un'altra gilda è stata appena creata Ciao!